Sei incoerente, hai detto che non l'avresti mai provato, ma come? Fa schifo e poi lo compri, ragazzi. Buon unboxing del venerdì. Un po' mi è mancato questo appuntamento con voi quattro amici al bar. Allora, no, un attimo. Pubblicità gratuita, o meglio sono io che ho pagato l'oro per avere il Vision Pro. ADF riparazioni di Lainate. Che passione, che voglia di innovare. Veramente bravissimi ragazzi, ma attenzione, è il momento. Sto togliendo i sigilli non più sigillabili a questo Vision Pro di Apple che sì, ho comperato perché la scimmia è scimmia. Ma non ho detto che era un prodotto schifoso, che non l'avrei mai provato. Anzi, nel mio video di prime impressioni, senza averlo provato, quindi basato sulle prime impressioni di altri, ho detto pronto a provarlo e a cambiare idea. C'è stata l'occasione perché appunto i ragazzi di DF mi hanno detto, noi ne stiamo importando un po', lo vuoi? Te lo facciamo anche fatturato. E quindi assolutamente sì, va bene. Per me sarà uno strumento di lavoro e poi avevo davvero voglia di provarlo. Prima impressione quando lo si tira fuori dalla scatola? Pesante. Diciamo che video di unboxing del Vision Pro ce ne sono veramente tantissimi, quindi non starei qua a perdere troppo tempo. Ormai è stato vivisezionato dai fixit, insomma un po' da tutte le parti. Ma è sempre bello anche se... in realtà adesso mi metto un po' nei vostri panni e riesco un po' a capire l'influenza che io posso avere nei vostri confronti. Ripeto, io cerco sempre di influenzare in maniera positiva, di far fare acquisti consapevoli, ma questo giro che sono stato dalla vostra parte, guardavi video di chi unboxava, di chi faceva, gli americani che facevano cose strane, Yaki che ha fatto un bellissimo unboxing, 8 eccetera eccetera eccetera, cioè mi è proprio venuta la voglia di provarlo, anche perché sembra un cambio di paradigma. Batteria ovviamente esterna, beh raga, posso dire anche lei un po' pesantuccia, comunque le confezioni di Apple, cioè guardate anche la cura linguettina, dovete tirare con qua l'indicazione per tirare fuori poi questo altro pezzo. Allora, un po' complicato eh, c'è una terza linguettina qua, ok, ma ce l'abbiamo fatta, veramente delle confezioni super top e qua la fascia molto meno figa ma che alla fine ho visto che mettono tutti per tenerlo su un po' di tempo che passa sopra alla testa. Ora, tanta scimmia, però non posso fare un unboxing che dura 6 ore e mezza, quindi la configurazione, ve la risparmi, sono mille persone, però non lo so eh, magari alla fine, non lo so, voi se non volete skippare tutte le robe che mi sono arrivate, andate alla fine e vedrete se c'è. Andrea perché metti i tuoi pacchi dentro l'unboxing? Lampadine G9 a led che mi servono a casa? Spigen! Ma quanta roba, ma tra l'altro anche questo arriva da Spigen. Spigen! È quasi meglio dello spellicolamento, cioè quanto adoro, eh, allora ASMR. Vabbè, sono fetticista del Fluriball. Gadget Spigen o Spigen, no, no, raga, ma vi ricordate quanti anni fa erano che andavano i Fidget Spinner? Su questo pacchetto ho pagato i dazzi, oh no, bello, un mini PC, era tanto che non li provavo e tra l'altro Gicom ha veramente dei bei prodotti, quindi questo sicuramente prova a brevissimo e poi qua... Se avete sbirciato fate finta di nulla perché è una cosa... Vabbè, vi dico il brand Amazon, ma sott'embargo... Adesso mi viene paura... Ok, oh, no, 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 top. Nuova cam di 70 My 4K HDR, la A810 con l'hardware kit, immagino per collegarla, per avere tutte le funzioni di sensore quando la si mette sulla macchina ed è parcheggiata per vedere anche se qualcuno ci viene addosso. Brand, tra l'altro, che fa delle... Ma Andrea, ma come cavolo hai tagli... Ma tra l'altro da chi è che arriva questo pacco? Che c'è solamente il mio nome, che mi fa un po' strano taglierinare a metà il mio nome. Dicevo, 70 My, ottimo brand di Dashcam. Allora... Ah no, alt, fermi tutti, mancava il pacco Totem. Qua so cosa c'è e qua a questo punto vi uso, cari amici, vi uso. E a 50 anni ho anche un po' di voglia di fare lavori manuali, potarmi le siepi, non lo so, sono venuta questa scimmia e poi sono succube di Offerte.club, l'applicazione che gestisco insieme ai ragazzi che trovano delle offerte, lui era in offerta. Abbiamo anche il canale WhatsApp nuovissimo a bomba, oltre che alla super applicazione. Ma Michele Volteri, ma amici che fate in giardinaggio, fatemi sapere se ho fatto un buon affare, l'ho pagato tipo 60-70 euro con la batteria, oppure se è una sola e lo posso restituire ad Amazon. Vabbè, adesso andiamo a configurare davvero il Vision Pro. Beh, l'aggancio dell'alimentazione è di qualità. Ma sempre un'alimentazione esterna c'è. Wow, no. Cioè, io qua in questo momento ho l'ello della configurazione dei prodotti Apple. E la configurazione è guidata, come per tutti i prodotti Apple. Il problema è che il Face ID con questo cosi in faccia giustamente non funziona. Questa è un po' una cosa che è non bellissimo. In questo momento sto setappando praticamente le gesture e il tracciamento degli occhi. Anche questa è una cosa impressionante. La precisione, cioè si guarda una cosa, si fa così e viene preso l'input. Rodrigo, come vedi i miei occhi? Cioè, come parlare con una persona che ha questa cosa? È molto strano perché si vede pochissimo. Poco, poco, poco. È sfocato. Puoi provarli? È figata. Ma vedo chiarissimo, ma si vede proprio... Cioè, tu sei adesso davanti a me che stai filmando, ma io non ti vedo, sei dietro lo schermo. È figata questa. Cioè, è davvero stra tanto risoluto. E il peso? No, non lo senti più dopo un po'. Dopo un po' non lo senti più. Perché? Non ci fai più caso. Sei concentrato sulle schermate che hai davanti o sul lavoro e basta. Non ci pensi più. Quando togli gli occhiali e guardi un po' l'environment, cambi stanza. Però le tue 10 minuti e c'è un bel signore rosso. Sì, pesanti sono pesanti. E porca miseria, sono dietro ai tre schermoni virtuali che ho appena impostato qua. È una chiesta di Safari perché l'applicazione YouTube non c'è, ma un mio video ha tipo, non so, 120 pollici. Poi ovviamente lo posso allontanare, lo posso avvicinare. Quando avvicinano le finestre sui tavoli, guardate, fa ombra. E poi qua il mio blog e poi qua il mirroring dello schermo del Mac. In questo momento è spento, vedete, eppure io lo vedo lì grande con Premiere che posso utilizzare. Poi ovvio mi vado vicino alle scritte, se muovo la testa, un filino le vedo sgranate. Ma che qualità, veramente, veramente pazzesco. Con l'account italiano le applicazioni non si possono scaricare, vedete, farò un account americano per ovviare a ciò. Raga, che dirvi? Stoppo la registrazione, li tolgo, avrò sicuramente un segnone in faccia, ma va davvero tutto. I segni in faccia, il fatto che il cavo sia scomodo, il fatto che sia pesante, poi lo proverò con quest'altra fascia in secondo piano, rispetto a quell'effetto wow, adesso ce l'ho indosso da circa un'ora e mezza, zero nausea, che mi ha dato questo visore rispetto a tutti gli altri. Ma, spoiler, il 19, sarò dal più grande esperto italiano di VR a Arra, che ha tutti i visori, che ci lavora professionalmente, perché voglio fare due chiacchiere con lui. Prime impressioni, wow. Ma si conferma sempre più la tesi che ho fatto nel mio video prima di averlo provato. Comunque, assoluto, che figata!